Salve a tutti, sono Gianfranco Marini e vorrei presentarvi in questo video uno strumento molto interessante per creare le storie. Le carte di Prop mi servirò di una presentazione, troverete il link della presentazione nel box descrittivo del video che pubblicherò su YouTube. Chiunque si sia occupato di fiabe e di scrittura creativa avrà senz'altro sentito nominare Vladimir Prop e la sua opera Morfologia della fiaba. Chi era? Questo antropologo russo, linguista, si era occupato della tradizione dei racconti orali e delle fiabe tramandate oralmente e aveva visto la loro origine nei quelli che sono i riti di iniziazione delle società tribali. Ebbene, egli individua in questi racconti il ripetersi di uno schema in modo costante, uno schema fisso in cui si presentano determinate situazioni complesse che lui definisce funzioni, che sono la congiunzione di varie variabili, come vedremo, 31 funzioni tipiche. Queste si succedono secondo un ordine, un ordine che è sempre determinato. Queste funzioni vengono chiamate anche sequenze ediprop. Prop pubblicherà i risultati della sua ricerca in Morfologia della fiaba, addirittura nel 1928, e da allora questo è un classico, un riferimento obbligato per chiunque si occupi di queste questioni. Queste 31 funzioni, secondo cui è organizzata la trama, la struttura narrativa della fiaba, si possono poi trovare in molti altri generi letterali, anzi è interessante osservare come vi sia un certo rapporto, una certa analogia tra i risultati della ricerca di Propb e quelli di Joseph Campbell. Campbell è un autore molto interessante, da cui Kurt Vogler ha ricavato il famoso schema del viaggio dell'eroe. Campbell studiava la mitologia comparata, autodidatta, figura al di fuori del mondo accademico, che si ispira a Jung, e anche lui, studiando le mitologie, arriva a definire una struttura unitaria che chiama il monomito e, nell'eroe dai mille volti, descrive quella che è la struttura tipica del mito dell'eroe nelle varie mitologie. Vogler, sceneggiatore della Disney, ricaverà il viaggio dell'eroe, che costituisce un paradigma della sceneggiatura in ambito hollywoodiano. Luca per Guerra e Sellari si è ispirato appunto al viaggio dell'eroe, a Campbell, che conosceva, di cui era amico. E quindi si nota una certa analogia, sia nel viaggio dell'eroe che nelle 31 funzioni della merfologia della fiaba, abbiamo in realtà la raffigurazione o rappresentazione metaforica, metafora del viaggio, del cammino, dell'esistenza umana, della vita di ciascuno di noi. Bene, le 31 funzioni di Prop sono un utile strumento sul piano didattico, sia per analizzare un racconto, che per creare delle storie. Vediamo questo attraverso un esempio tratto dal sito Faccio Storia, che riporta un lavoro ben documentato di una maestra, Angela e Dario, che consiglio di visitare. Qui abbiamo la rappresentazione delle carte di Prop, i colori stanno a indicare le funzioni che ritroviamo in modo più ricorrente, e quelle più rare, prendiamo una di queste funzioni, per esempio la partenza dell'eroe. Come vediamo non si tratta di personaggi, 31 personaggi, è qualcosa di più complesso, sono funzioni in cui abbiamo una determinata ambientazione, il luogo da cui l'eroe parte, che deve abbandonare, in cui probabilmente è cresciuto, una determinata azione, appunto l'atto di andarsene, in quanto per esempio cacciato, è un determinato personaggio che compie questa azione, quindi insomma le funzioni sono variabili piuttosto complesse. Vediamo come si possono applicare queste funzioni per analizzare un racconto abbastanza tradizionale, riconosciuto come può essere il cappuccetto rosso, qui vediamo come le varie funzioni, qui soprattutto effettivamente personaggi, ma personaggi che compiono una qualche azione, sono distribuite in cappuccetto rosso, il lupo è l'antagonista, e al tempo stesso il lupo è anche il falso eroe, in quanto quando si reca dalla nonna, il lupo imita, si maschera da cappuccetto rosso, e quindi falso eroe, la mamma, in questo caso il mandante, la nonna è la persona cercata, ovviamente è cappuccetto rosso, è l'eroe, anche il cacciatore riveste un doppio ruolo. Bene, passiamo adesso a vedere questo interessante strumento, che è possibile acquistare ad un prezzo abbastanza contenuto, che sono le carte di prop, si tratta proprio di un mazzo di carte, sono 20 carte che rappresentano 20 delle funzioni o sequenze di prop, che sono raffigurate in ciascuna carta, perché 20? Perché Gianni Rodari in un testo, anche questo, fondamentale per chiunque si occupi nelle scuole elementari, elementari è molto più bello di scuola primaria, dicevo, per chiunque si occupi nelle scuole elementari della narrazione, grammatica, dicevo, della fantasia, riduce queste funzioni a 20, semplificandole, e in queste carte sono appunto rappresentate queste 20 funzioni, sono numerate, ogni carta recca un numero in successione, un titolo della funzione, una breve descrizione di quella funzione, che può fornire una guida, un'indicazione per chi gioca al gioco delle carte di prop, perché è questo di cui si tratta, questo mazzo serve per costruire storie, per giocare a costruire storie. Le carte sono ordinate in gruppi che hanno un colore diverso, si tratta di 5 gruppi con 5 colori, che ripercorrono in sequenza le varie fasi della struttura narrativa della fiaba, in rosa abbiamo la situazione iniziale, poi abbiamo la rottura dell'equilibrio, e in verde abbiamo le carte, in cui viene raccontata la partenza dell'eroe, in giallo poi lo sviluppo della storia, le varie peripezie dell'eroe, infine in blu il ritorno e in marrone la conclusione. Ovviamente le carte, come anche in parte la morfologia dell'eroe, fanno, come anche la grammatica della fantasia di Rodari, fanno riferimento a un tipo di creatività che non è determinato dall'assenza di regole, ma da una grammatica, appunto, da una grammatica combinatoria, in cui, combinando, appunto, in questo caso, le carte, si ottengono determinate sequenze e si possono raccontare determinate storie. Ma vediamo come funzionano le regole di questo gioco. Bene, si possono seguire le regole che sono indicate anche nel mazzo di carte, distribuendo, per esempio, le carte a tutti, i bambini, un unico mazzo di carte, si distribuiscono le carte ai bambini, ogni bambino racconta a seconda del numero di carta, cominciando alla carta numero uno, quindi chi ha la carta numero uno gira la carta e inventa, seguendo le indicazioni della funzione che era presentata in quella carta, inventa, comincia a inventare la storia e così via. oppure si pesca una carta e il bambino a cui tocca quella carta racconta quello che è accaduto prima della situazione rappresentata dalla carta, oppure quello che è accaduto dopo. si possono anche effettuare delle variazioni, per esempio, si estragono tre carte a caso e si costruisce la storia solo su queste tre carte, oppure si pescano una o due carte per ogni colore della sequenza, oppure ogni bambino ha un proprio mazzo e a cominciare dalla carta numero uno racconta la storia. Naturalmente, si possono, anche con l'aiuto dei bambini, inventare nuove regole. Per esempio, si dividono i bambini in due squadre, ciascuno, per esempio, con un proprio mazzo o con lo stesso mazzo, e ciascuno racconta la sua storia, ma le storie devono incrociarsi in una carta che viene pescata per prima e che costituisce la carta comune a tutte e due le storie. E così via. Un'attività interessante e divertente può essere quella di far costruire le carte di prop ai bambini. Si possono individuare le funzioni, per esempio, quelle di Rodari, che sono solo 20, più semplici, e si può chiedere ai bambini di disegnare in un'immagine la funzione e di colorare poi il disegno. Oppure si possono trovare i disegni già pronti, scaricarli, stamparli e farli colorare. Per esempio, in mini disegni IT, trovate qui il link, sono disponibili le varie carte. Ecco qui. Possiamo, semplicemente cliccando su una di queste icone, vedete, comparirà la carta, l'allontanamento, oppure l'eroe si salva, salviamo l'immagine, e poi la stampiamo e la facciamo colorare. Fin qui abbiamo utilizzato strumenti che non sono digitali. Naturalmente, si possono utilizzare anche strumenti digitali. Per esempio, si possono acquisire le immagini delle funzioni, insomma, le carte realizzate dai bambini con uno scanner, si possono acquisire come immagini e si possono, quindi, digitalizzare. Oppure, per esempio, con strumenti come quelli indicati e qui a destra, che so, Calameo, YouTube, Spreaker, Padlet, si possono documentare le varie fasi del gioco. Si può riprendere, per esempio, con uno smartphone, l'attività di costruzione delle carte da parte dei bambini, o la fase del gioco o delle carte, quando i bambini raccontano la storia, o se non si vuole usare un video, si può usare lo smartphone per registrare solo l'audio e quindi il racconto dei bambini. Si può usare Spreaker per pubblicare il file mp3. Si possono anche scattare delle fotografie e poi realizzare un prodotto che può essere una presentazione, un wall come Padlet, dove inserire le varie immagini, i vari file audio, o pubblicarle, insomma, in tanti altri modi, come un e-book, per esempio, su Calameo, eccetera. In questo modo, educhiamo i bambini all'utilizzo del digitale, integriamo la didattica non digitale con quella digitale, cercando il punto di equilibrio più efficace, e documentiamo la nostra attività. Si sa quanto i bambini siano orgogliosi di mostrare, per esempio, ai genitori o agli amici, quello che hanno fatto, quando fanno un disegno, raccontano a tutti e mostrano a tutti il disegno che hanno fatto. Bene, per concludere, ho riportato una brevissima ed essenziale bibliografia-linkografia. nella bibliografia, ovviamente, le carte di prop, che si possono acquistare, la morfologia della fiaba di prop, e la grammatica della fantasia di Rodari. Nella lincografia ho inserito un articolo piuttosto lungo, in cui Mattia Savià e Matilde Sciarrino, spero di pronunciare correttamente, raccontano di come hanno in laboratorio ITALS, che penso sia un sito per l'apprendimento dell'italiano rivolto agli stranieri, come utilizzare la grammatica della fantasia di Rodari, che ricordiamo raccoglie l'esperienza di Rodari nei vari corsi di formazione che gli tenne negli anni 70, in Emilia Romagna, proprio sulla scrittura creativa e sulle esperienze che Rodari stesso aveva fatto con gli alunni, con i bambini, per insegnare loro a scrivere e a narrare. E Mattia Savià e Matilde Sciarrino, appunto, raccontano di come utilizzano, si possono utilizzare, si può utilizzare la grammatica della fantasia per imparare a scrivere. E poi c'è un interessante documentario intitolato Morfologia della fiaba, che si trova sul sito della RAI, dedicato a Vladimir Prop, alla sua attività e alla sua opera, che viene raccontata da Tatiana Pudovano, e alla sua allieva, da Alberto Maria Cirese e da Emilio Garroni. Spero che possa esservi utile questo strumento, io l'ho trovato molto carino e divertente da usare. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.